di legare l'estensione, cioè di rinforzare la parte del titipetto e di legarla con l'estensione. Senza, ce l'ho qua in bocca. Esatto, sempre che ho iniziato a lavorare, scusatevi in una montagna. Ok, la prova è, prova a ispirare. Ispira. Ora, va bene, respira se non muori. Ora, respira, respira. Propezza bassa. Umf, umf! Umf! Calcio! No, no, il polhi è detto. Prima di cominciare a cantare, e anche per le ragazze, parlare un po' della tecnica dell'appoggio. Allora, vediamo un pochettino, potete venire qui a vicinare un attimino qua, non ci non è? 3, 2, 1, 2, 3, 4 6, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 se uno non può stare seduto nel suo caso si può trovare ad esempio i ground che sono delle tecniche dove tu piegando leggermente il ginocchio, forse l'abbiamo fatto anche noi, si provoca una leggera retroversione del bacino, ok, qua c'è la cresta, scusate, sulla cresta igliaca, questa parte dura, ok, se vuoi mettete le mani qua, per chi non l'ha mai fatto questo esercizio è come parlare a te con i cani, giusto, no nel tuo caso no, tu per benissimo, ok, comunque si sente, questa parte può muoversi, no, ok, a seconda di come io la giro, sento che dietro, qui qualcosa si rilassa, è un po' meno tefo, un po' meno rigido, no, ok, allora, se sto così non conto, ok, oppure se io questa cosa annullo questa, una leggera retroversione del bacino in questa zona si rilassa leggermente e il diaframma riesce momentaneamente sicuramente ad avere una situazione migliore, quindi sia diaframmatica, ma anche più forte e più sciolto, quindi proviamo di farlo senza tenerti, con un leggero grounding, sì, le gambe sono all'altezza delle spalle, quindi non troppo l'arache, ma è un momento, quindi non troppo perché sennò è leggero, e non nemmeno, andiamo a uscire, ok, perfetto. di legare l'attenzione, cioè di rinforzare la parte del bipetto, di legarla ancora.